politiche dove si sceglie il futuro del paese o da chi si vuole essere governati? Questo che hai appena detto è sicuro. Io prima di entrare sono stato a vedere dati reali e voti però verrà elaborato domani per il centrodestra è una catastrofe è più di quello che stiamo vedendo nel senso che tutti i loro candidati hanno preso meno voti in numero di quelli che avevano al primo turno mentre invece quelli di centrosinistra e cospicui si può immaginare che abbiano fatto il pieno fra quelli che sono andati a votare avete capito? Tutti i candidati del centrodestra e perché? Perché al primo turno la gente andava a votare il partito al secondo turno si è trovata questi candidati che ha giudicato non proponibili e non li ha votati ed è il risultato, poi saranno delle analisi della lotta fra i partiti del centrodestra è impossibile averne fuori perché l'esempio che tu facevi del 93 è un esempio esattissimo ma lì c'era un leader che stava entrando in campo anzi entrò in campo fra i due turni fra il primo e il secondo turno dicendo che ha ribaltato qua non c'è un leader e abbiamo visto loro diranno che è stata la campagna di fanpage ma guardate non è questo è una cosa che viene da... è la lotta fratricida fra Lameloni, Salvini, Salvini, Giorgetti non lo diranno ma è quello l'abbandono del candidato di Torino è stato clamoroso era un candidato che tutti i sondaggi davano da tempo per ipervincente e anche lui preso tranquillamente al secondo turno nessuno è andato più a votare perché non si mobilita punto primo il punto di debolezza in vista delle politiche del centro-sinistra è che lì esiste un partito forte il partito di Letta e intorno galleggiano dei moribondi è difficile fare... Moribondi dice il Movimento 5 Stelle adesso Moribondi ritiro e chiedo scusa delle forze appannate in questo momento insomma delle forze in crisi che non sono nate per fare il cespuglio dell'ulivo o il cespuglio della quercia che non hanno quella vocazione per cui diciamo il modello contiano i 5 Stelle erano una forza piena di energia adesso comunque la si voglia giudicare e quindi quando si andava alle politiche se si andasse nelle condizioni attuali cosa che escludo si affrontano una debolezza estrema perché mentre nelle elezioni del 1993 si intravedeva all'orizzonte un uomo cioè c'è bisogno di candidare un leader se vanno uno che dice questo è il nostro candidato per dirigere il governo quello che chiama Letta lo osservavamo prima mentre Letta faceva la sua conferenza stampa della vittoria poi in realtà è stato soprattutto un intervento senza domande e lui ha detto quello che aveva detto due settimane fa che il centrodestra era forte e vinceva perché aveva un federatore che era Silvio Berlusconi adesso evidentemente ha questo problema da un lato è l'analisi che fanno in molti c'è bisogno di un federatore e che dia un baricentro centrista scusa il bisticcio anche geometrico però che lo dica colui che ne sarebbe eventualmente vittima è un po' strano che lui auspichi un centrodestra diverso No, beh, lui lo dice perché sa che non possono averlo sa che quello che ha dimostrato l'ultimo anno e mezzo l'anno della pandemia è che quel gioco di dire noi corriamo tutti uniti poi chi arriva prima ci guida è un gioco che può andar bene una volta e non andò bene neanche una volta ma non esiste in politica cioè in politica tu puoi farti guidare anche da un partito dell'1% se sei sapiente sai giocare a scacchi gli scacchi della politica il centrosinistra li gioca bene comunque loro possono perdere i voti ma poi sanno giocare la partita Ha anche più pezzi? Eh? Ha anche più pezzi il centrosinistra? Sì Possiamo dire, no? Sì, sì, sì e comunque lo giocano bene il centrodestra sono proprio non lo sanno giocare hanno giocato per un anno la Meloni contro Salvini Guarda chi sta arrivando te lo faccio vedere ai nostri telespettatori grazie a tutti